Allora, sono le 12.30, ospite speciale in studio con noi all'Area che tira Lily Gruber, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito, la prima volta che vengo all'Area che tira, quindi un'emozione. Sono emozionato anch'io, davvero, grazie. Allora, anche perché le nostre redazioni non sono distanti, ma anche tu hai giornate molto complicate perché tutte le sere hai il tuo programma e quindi sappiamo qual è la tua complicata gente. Allora, arriviamo subito al tuo libro, non farti fottere come il supermercato del porno online ti ruba fantasia, desiderio e dati personali. E io ti voglio dire subito che in realtà, avendo assistito anche alla presentazione del tuo libro a Roma, molti hanno detto no, ma questo è un libro speciale, un libro particolare. In realtà è un libro che affronta un argomento particolare, ma è un libro che rispecchia perfettamente le inchieste che Lily Gruber ha fatto nel corso degli anni. Quindi è speciale l'argomento, ma in realtà il metodo giornalistico è esattamente lo stesso. Cioè come ci hai raccontato i grandi conflitti, come hai raccontato la storia del tuo Tirolo, come hai raccontato le tante storie nei tuoi libri, in realtà il metodo giornalistico che qui hai usato è lo stesso. Sì, perché è quello dell'inchiesta, no? Che noi giornalisti partiamo dai fatti, dai dati, dai numeri e cerchiamo di raccontare ed esplorare dei fenomeni complessi. Questo della pornografia online che dilaga ovunque, gratuitamente, e che ormai è accessibile ai minorenni, età media di accesso anni 12, è un grossissimo problema del quale ci dovremmo occupare e del quale nessuno parla. Nessuno parla, in particolare la politica, ma poi lo vedremo perché in realtà qui, analizzando quello che è il mercato, anzi più correttamente l'industria del porno, come tu la chiami, delle risposte da parte della politica ci devono essere. Non possiamo lasciare in mano alle grandi multinazionali la gestione non soltanto dei nostri dati, ma di questo mercato. E ci arriviamo.